Adesso sto già registrando. Ok, allora, buongiorno Mirella. Buongiorno, buongiorno a te. Nonostante tutti i danni, no, senti chi parla, nonostante tutte le varie difficoltà tecniche, ce l'abbiamo fatta lo stesso. Ma grazie a te, sei un genio. Sai che la mia mamma non sa nemmeno, vabbè non lo dico perché poi si offende, ma lei è la tecnologia. Vabbè, ma quando fai questo lavoro, come si dice, bisogna, anche se io non amo la tecnologia in particolare, però credo che sia una buona cosa quando è usata bene. In realtà è neutro, è uno strumento come tale, il famoso coltello. Ma certo, certo, certo. Senti, Mirella, abbiamo i 30 minuti, mi dicevi? Penso di sì, se poi va oltre meglio, però non lo so, spero che abbia i 30 minuti sicuramente. Dai, proviamo, che Dio ci assista. Allora Mirella, io faccio questa nostra bellissimo confronto d'anime, come lo chiamo io, perché tu sei dei nostri, nel senso che sei della nostra piattaforma Love & Gratitude TV, che il nostro capo banda è Giovanni Vota, il grande Gianni. Grande, grande. Grande. Tutti noi siamo entusiasti di avere una donna meravigliosa come te, del tuo lavoro, quindi se volete fruire, guardare su Love & Gratitude TV di Atele, grazie ai meravigliosi lavori di Mirella, fatelo perché sono perle per il cuore. Grazie Mirella, eh. Grazie a te, cara. Senti, adesso affrontiamo un tema che su quella piattaforma non l'abbiamo affrontato, ma a me stuzzica da morire, perché secondo me è una sioma, cioè dietro un grande uomo c'è una grande donna. Ecco, questa è una frase della Virginia Woolf, che è rimasta un po' nell'inconscio collettivo e probabilmente ci è rimasto perché proprio è una verità mai detta, diciamo che è una verità che a volte può suonare di tipo femminista, ma che in realtà denuncia una vera, una grossa verità. Io mi sono interessata di questo e ti racconto il perché in un modo molto strano, perché mi avevano invitato a un convegno in Grecia, nell'isola di Samos, convegno internazionale, eccetera, eccetera, mi ha detto porto un argomento che abbia però attinenza appunto con la cultura greca. E io siccome ci voglio sempre infilare le donne, perché voglio che le donne abbiano finalmente quel ruolo importante che hanno nella vita di tutti e che venga riconosciuto alla parità, perché solo nell'equilibrio tra uomini e donne noi troveremo la pace e l'armonia, love and gratitude, eccetera, eccetera, proprio se riusciamo ad avere questi due elementi, queste due vibrazioni in armonia. Quindi siccome abbiamo secoli, millenni di patriarcato sulle spalle, dentro le nostre teste, nel nostro DNA ormai si è talmente infilato nel profondo della nostra anima che ovviamente per riequilibrare bisognerebbe appunto riportare un attimo in luce la parte femminile, che non è vero che non ha fatto niente, a parte creare la vita, ma non è solo questo, non ha creato solo la vita, ha creato tantissime cose meravigliose. Allora mi è venuto in mente, siccome dovevo attenermi alla filosofia greca, ed ero chiamata come esperta in questa cosa, ho detto adesso ci infilo Diotima. Allora non tutti sanno chi è questo personaggio. Diotima è una donna che viene nominata dal patriarcalissimo Platone quando racconta del simposio. Il famoso simposio di Platone non è altro che una disquisizione di questi eruditi dell'Atene di allora su Eros, sull'amore. Quindi figurati, mi è scattata subito l'interesse assoluto, sono andata a riguardarmi tutto il simposio. Oltre a una lettura estremamente piacevole, perché come tutte le cose quando sono davvero belle rimangono nella storia, ma sono belle, quindi al di là del piacere poi di riscoprire questa cosa, ho scoperto questo personaggio. Questo personaggio è in realtà un personaggio che viene nominato niente po' di meno che da Socrate. Cioè Socrate, ecco, Socrate stesso quando viene interrogato dagli amici sulla problematica dell'Eros, lui che diceva sempre la verità ed è stato tramandato nella storia per essere l'uomo che ha sempre detto la verità, addirittura è stato ucciso per aver detto sempre la verità, dice una cosa straordinaria, dice io di Eros non posso parlare, però vi posso raccontare ciò che mi ha detto una donna che si chiama Diotima e che lei mi ha introdotto nelle conoscenze di questo amore di Eros. Io lì per lì ho fatto un salto sulla seggio, ho detto come Socrate, il più saggio di tutti i greci, considerato da tutta l'umanità ancora attualmente il più grande dei filosofi, dice che solo una donna può parlare d'amore e anche lui riconosce i propri limiti di maschio, beh questo andava assolutamente riportato, andava assolutamente riportato alla luce e io quindi ho creato anche delle immagini, delle slide, perché sai come faccio io, ci aggiungo tutte le cose che mi vengono in mente, creo proprio un discorso, e insomma sono andata a fare questo discorso in questo mega convegno internazionale con dei nomi fantastici e io piccola piccola mi sono andata a fare Diotima. Quando mi hanno fatto la traduzione, perché ovviamente io l'ho fatta online e c'era la traduttrice greca e italiana che traduceva in simultanea, come si fa in tutti questi convegni, alla fine questa signora, che parlava ovviamente un ottimo italiano, dopo la registrazione mi fa, può fermarsi un attimo? e io dico sì certo, mi dica pure, le volevo fare i miei complimenti, perché questa cosa mi è piaciuta tantissimo, qualcuno dice queste cose, sono bellissime. E questo è stato il commento di questa ragazza che era lì, così proprio spontaneo, che le veniva dal cuore. Che meraviglia. Quando poi è stata registrata lì in Grecia, che se c'è un popolo patriarcale è quello greco, è purtroppo, mi hanno detto, quella persona che mi aveva invitato a questo simposio, mi ha poi raccontato che, diciamo, nelle file dei grandi papaveroni, dei grandi soloni, che, diciamo, erano a capo di questo convegno, hanno cominciato a storcere il naso. Hanno detto che, ma insomma, io avevo fatto una cosa un po' strana, un po' fuori dagli schemi, che non so, non sapevano se era bene mandare in onda, eccetera, eccetera. E questo mi è stato riportato da quella persona che mi aveva invitato. e gli ho detto, guarda, che la persona, subito dopo, quella ragazza che mi ha fatto la transduzione, mi ha proprio così spontaneamente detto che meraviglia. E quindi, ecco, e quindi dopo in realtà, vedi un po', vedi il coraggio viene premiato, si vede che ci hanno di nuovo ripensato, alla fine mi hanno invitato al convegno di Atene. Ma pensate! Ah, che bello! Quindi... Ma che meraviglia! Che soddisfazione! Che soddisfazione, capisci! Perché effettivamente, avere il coraggio di rompere questo schema, che comunque è millenario, no? E che viene rafforzato anche dalle storie, che poi sono andata anche a leggere, di grandi uomini molto famosi, che però dietro avevano sempre qualcuno che li sosteneva, che li aiutava, che diciamo che aveva anche molte idee che probabilmente poi sono passate per essere appannaggio dell'uomo. Ne cito alcuni del passato, tipo la Margrethe Bach, la moglie di Sebastian Bach, era una musicista bravissima, una violinista e una pianista di fama, e guarda caso moltissime delle sue sonate, dei suoi pezzi musicali, sono stati scritti da lei. Ora, prima si diceva trascritti, adesso viene il sospetto che li abbia semplicemente scritti, cioè che sia stata lei ad avere queste idee, perché era un genio musicale lei, oltre ad avere nove figli con lui, quindi voglio dire una donna eccezionale, e adesso pare acclarato che metà delle opere di Bach siano in realtà di Margaret, non di lui, non di Sebastian. E quindi questo è già una donna che ovviamente adesso ci saranno polemiche su questa cosa, però come manualità sicuramente sono tutti spartiti, scritti da lei. E probabilmente composti da lei. Altra storia, sempre nel cambio musicale, che io dico anche nel mio libro Quando Troi era solo una città, che tu conosci bene quel libro. Stupendo. Ecco, racconto della storia della sorella di Mozart, Nannarella, la famosa Nannarella, che era dotatissima come il fratello, in più aveva una voce melodiosa, quindi oltre a saper suonare, eccetera, eccetera, come meglio del fratello, aveva anche questa voce meravigliosa. Quando loro, questo è una cosa risaputa, questi due bambini andavano col padre a fare delle performance meravigliose in tutte le regge, le corti, le reggi, diciamo, europee, in Francia, in Germania, in Inghilterra, insomma, da tutte le parti venivano acclamati questi due bambini prodigio. il punto è che quando la piccola Nannarella ebbe le prime mestruazioni, il padre la escluse da queste performance e portò solo il piccolo Wolfgang, non solo, ma impedì a lei di andare a scuola di musica, cioè a scuola di scrittura della musica, così che lei non ebbe l'istruzione sufficiente per poter scrivere, comporre tutto ciò che aveva in mente e si narra che lei di notte andasse a svegliare il fratellino al quale venivano impartite le lezioni giuste per copiare dal quaderno del fratello come si facesse a comporre musica e pare che lei, grazie a questi aiuti che il fratellino le dava molto volentieri, c'è sempre stato molto amore tra i due fratelli, lei abbia composto delle cose bellissime. Quando il padre si accorse che questa ragazzina aveva composto queste musiche, la chiuse in camera, bruciò tutte le sue opere e la fece sposare di forza con un vecchio vedovo che aveva già quattro figli. Questa è la triste storia di questo genio della musica che purtroppo non ha potuto, di cui noi non possiamo beneficiare. Ora, tutta questa umanità, tutta questa genialità che è metà dell'umanità è stata bloccata, non abbiamo potuto avanzare se fossimo il doppio, avessimo il doppio di tutto ciò che abbiamo comunque creato. Pensate che meraviglia sarebbe la vita. Io dico sempre che se noi dobbiamo comparare l'umanità a un solo essere umano, questo essere umano è monco, è senza un braccio, senza una gamba, senza un occhio e con metà cervello. L'altra metà è stata bloccata, paralizzata, chiusa e quindi l'umanità è andata zoppicando, è andata in modo molto malato, è andata avanti in modo molto disequilibrato. Ok, poi di altre donne di questo calibro, per esempio, non tutti sanno che il famosissimo Albert Einstein aveva... la famosa equazione. Esatto, la famosa Milena che era la sua prima moglie, lei era una matematica eccezionale, lei era l'unica donna che frequentava l'università in fisica e matematica, voi pensate, a quel tempo, siamo alla fine dell'Ottocento, voi pensate che cosa voleva dire questa donna, la famosa Milena Marvich, e lei fu quella che aiutò Einstein nel suo anno d'oro, nel suo anno meraviglioso, anno mirabilis, come lo chiamava lui stesso, in cui abbia tutte le intuizioni della relatività, eccetera, eccetera, fu lei che mise giù tutti i calcoli, tutte le cose e probabilmente le idee le ebbero entrambi. Quando però lui andò a presentare il suo lavoro, lo firmò solo col suo nome e la Milena si offese naturalmente, siamo già in tempi molto più recenti, per cui le donne un pochino di coscienza l'avevano già acquisita e lei praticamente da lì cominciò la rottura di questo matrimonio che poi arrivò a delle insomma fu una rottura molto drammatica poi il figlio che aveva dei problemi eccetera quindi molto probabilmente metà del lavoro di Einstein lo dobbiamo alla moglie ma così ti posso dire Eleonora mi sa Mirella scusa se ti interrompo anche più di metà perché si dice che la famosa formula fu proprio opera sua l'intuito fu suo poi lui l'aggiustò diciamo che probabilmente era lei prova ne che dopo quell'anno Mirabili lui non ebbe più nulla di nuovo lui ancora dopo 50 anni era rimasto quel momento lì quindi voglio dire evidentemente c'è qualche cosa che lì diciamo che è sospetto però Einstein non si può toccare perché è il genio per eccellenza esatto e quindi tantissimi altri casi tipo anche non so l'Eleanor Roosevelt la moglie del presidente lui era sicuramente un'ottima persona molto capace eccetera ma fu lei a fare tutta la campagna a portare tutti i diritti per diciamo gli emarginati i neri eccetera eccetera fu lei a fare tutto quanto diciamo che però mise poi in luce il nome di Roosevelt e non certo il suo e quindi ma diciamo di esempi di questo tipo ne abbiamo tantissimi però voglio spezzare una lancia anche a favore di chi non ha di uomini che non hanno accettato questa questa malattia che si chiama patriarcato è una malattia mentale secondo me una malattia cronica dell'umanità e ci sono delle fulgide eccezioni tra cui lo cito spessissimo il marito di Madame Curie Pierre Curie il quale sposò questa giovane ragazza sembra un po' la storia di Cenerentor questa giovane ragazza che veniva dalla Polonia in un paese molto così poco poco conosciuto molto povero e lei il suo genio il genio di lei la portò alla Sorbona a Parigi e lui la seguì in tutti i suoi studi quando lei scoprì la radioattività che fu una scoperta grandiosa che ancora oggi salva migliaia di vite perché possiamo avere le radiografie possiamo avere tutto ciò che guarda la medicina quindi è stato un genio assoluto ma all'epoca siamo agli inizi del novecento quando lei scoprì questo da Stoccolma telefonarono ai coniugi Curie e dissero a lui che volevano dare il premio Nobel e lui rispose non dovete darlo a me dovete darlo a mia moglie e fu lui che poi appunto accompagnò Madame Curie e ricevettero il premio insieme più di un Nobel lei lei poi quando lui morì morì giovane il Pierre morì in un incidente di carrozza fa ridere dirlo non era d'auto ma all'epoca era bella ecco in un incidente di carrozza e e lei poi ebbe un altro Nobel per la chimica quindi due Nobel in campi diversi tra l'altro e fu l'unica donna ed era effettivamente un genio capace di riconoscersi cioè lei non accettò mai di scambiare il proprio nome lei firmava le sue le sue opere le sue invenzioni col suo nome non accettò mai come invece dovettero fare molto probabilmente le donne del passato tipo la moglie di Bach o la sorella di Mozart o tutte queste donne che pur persone geniali non hanno potuto dare il proprio nome e quindi il patriarca ha cancellato il nome delle donne ma in questo nuovo mondo meraviglioso che stiamo costruendo che stiamo vivendo che è in questa dimensione lo sa benissimo le donne avranno esattamente la stessa forza degli uomini e quindi tutta questa genialità potrà essere al nostro vantaggio di uomini e donne perché ripeto noi siamo stati monchi siamo stati veramente handicappati nell'umanità senza una gara senza un braccio senza un occhio e con metà cervello e con metà cervello e con metà cervello quindi questo forse anche con metà cuore ecco ma molto probabilmente con metà cuore anzi non so perché si parla dell'emisfero sinistro cioè la parte sinistra del corpo come quella femminile ma non sarà il caso che anche il cuore è leggermente spostato a sinistra quindi molto probabilmente il patriarcato è quasi senza cuore e questo è la spiegazione per cui noi siamo sempre in guerra sempre in cataclismi sempre in in odio sempre in separazione sempre in malattie eccetera 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 guarda d'accordissimo con quello che hai detto tu che belle queste donne c'è un altro esempio dell'umanità che forse uomini e qua un esempio super meraviglioso ad esempio Gesù aveva la Maddalena la Maddalena è stata colei che ha unto Gesù con l'olio di nardo prima che lui andasse verso suo destino Francesco aveva Santa Chiara poi Maddalena fu la prima a vederlo risorto e il vedere una persona risorta lui ha scelto lei come testimone della sua risurrezione se c'è stato un evento grandioso a parte tutte le parole di Cristo ma l'evento grandioso su cui si fonda poi tutta la cristianità è proprio l'evento della risurrezione e chi c'era c'era questa donna quindi è vero quello che dici tu San Francesco aveva Santa Chiara io riporto tutte queste storie in quel libro ultimo che ho scritto che è l'amore alto l'amore alto ecco qua c'è la copertina che meraviglia hai visto il cuore il cervello tutti uniti sì l'ho visto l'ho visto quando me l'hai mandato l'amore alto ecco quello è l'amore non patriarcalizzato è l'amore libero è l'amore vero è l'amore con la maiuscola se vogliamo dire che non risente di queste trappole mostruose ne abbiamo avuto esempi nella storia unici e che ovviamente elementi patriarcalizzati di uomini e donne non pensiamo il patriarca solo come formato da maschi moltissime donne sono estremamente patriarcalizzate brava Mirella brava volevo che arrivassi qui il male del nostro tempo il male del nostro le donne uomo le donne uomo le donne con le palle famose orrende orribile cosa da dire orribile cosa da dire eppure noi continuiamo anche nel linguaggio sappiamo che la lingua le parole creano famose abracadabra cioè le parole creano la realtà e finché noi diremo le donne con le palle non abbiamo ancora capito nulla perché il coraggio non è certo lì casomai nel fegato si dice no una persona di fegato se proprio vogliamo dire un organo coraggio cioè nel cuore l'azione nel cuore quella è la parola l'etimologia lo dice lo dice molto molto chiaro coraggio cioè agire nel cuore quindi quello è il vero coraggio e quindi le donne e gli uomini hanno coraggio ma non certo le palle le palle servono no no è orrenda è un'espressione di una volgarità allucinante ma io volevo fare con te una riflessione e sono sicura che non so qualcosa mi dice che siamo d'accordo nel mondo orientale nel mondo orientale cioè c'è stato un momento in cui tutto il nostro mondo era matriarcale c'era la misericordia quindi la misericordia l'amore come una mamma ama i suoi figli al di là dei successi interrompo un attimo su questa parola matriarcale è una parola che è scimmiotta patriarcale ed è pericolosissima e io non la amo proprio perché alle persone suona quasi come se la piramide patriarcale cambiasse solo di apice cioè metto al capo una donna e ho fatto il matriarcato no perché la parola è troppo simile e può indurre proprio diciamo il misunderstanding no la confusione tra le due parole io uso sempre matrilinearità o matri però che bella parola matrilinearità vuol dire che la linea è materna d'altra parte la natura stessa mater certa cioè sappiamo che i bambini nascono da quella pancia su questo non c'è dubbio poi tutto il resto è lucubrazioni diciamo ulteriori ma non lì il caso è sicuro no mater certa matrilinearità matrilinearità significa semplicemente che le persone il clan il gruppo si riconosce in linea non in piramide in linea tutti pari capito la linea è come dire equanime no semplicemente tutti i punti sono dritti nello stesso modo ed è in linea materna appunto cioè si si riconosce in linea materna questo è oppure matrifocalità in cui il focus della società è appunto nelle madri ma matriarcale è davvero una parola sdrucciolevole secondo me fa molti scivoloni usiamo la tua usiamo la tua che mi piace di più la matrilinearità sì la matrilinearità e la società era matrilineare all'inizio dei tempi anche perché le donne partorivano quindi questa cosa era considerata la cosa più sacra più eccezionale era una festa per tutto il villaggio allattavano le donne allattavano e portavano ed era un dono un dono di fertilità e di bontà e di bellezza capisci queste tette ciccione no questa pancia piena di bambini cioè era tutta una prosperità ti devo raccontare questa cosa e chi fruirà su questa intervista la mia terza figlia io ho tre figli li ho allattati tutti per due anni eccetera eccetera la mia terza figlia l'ho allattata fino ai tre anni e mi guardavano come tutti e tutte la cosa che mi scioccava vabbè gli uomini passa ma le donne mi dicevano ma tu sei pazza ad allattare ecco io guardavo loro come loro guardavano me esatto per me erano delle enormi snaturate e quindi capisci come una donna nel momento in cui vede un'altra donna ad allattare e dice tu sei pazza ma chi te lo fa fare probabilmente deve rivedersi ma infatti il patriarca si fonda sulle donne questa è una cosa che la gente non capisce il patriarcato si fonda sulle donne patriarcali cioè che il maschio sia così dato donne uom perché queste donne hanno ormai purtroppo ma è ovvio perché sono state massacrate la tragedia bruciate vive massacrate pensiamo solo in pazia no un nome per tutte cioè veramente la grandezza femminile la genialità femminile è stata massacrata per millenni alla fine l'unica donna superstite è questa donna uomo è questa donna che ha delegato il proprio cervello il proprio cuore ecco mi dice che la riunione terminerà tra dieci minuti quindi facciamo mi rimandi un link e ci riagganciamo ok ok quindi diciamo che tra un pochino ti dico più o meno quando siamo in chiusura dieci minuti non è pochissimo quindi comunque possiamo stare ancora un po' e ti dico il patriarcato si fonda sulle donne assolutamente siamo anche in numero maggiore l'umanità propende per le femmine come numeri quindi siamo anche in numero maggiore quindi il patriarcato tutte le leggi che da esso derivano che sono tutte leggi assolutamente folli e cattive limitanti della libertà dobbiamo anche noi prenderci le nostre responsabilità le donne nuove quelle che hanno cominciato a non accettare più il patriarcato con delle tragedie perché comunque anche il cosiddetto femminismo è stato un movimento di assoluta salute follia no ma che follia salute perché salute realmente rimetteva un attimo di equilibrio in un mondo totalmente folle che era quello fino nel novecento c'è stato questo grande evento che ancora adesso in qualche modo esiste cioè le donne stanno cominciando a prendere coscienza del proprio valore della propria intelligenza le donne hanno accesso alla cultura ma stiamo parlando dal punto di vista storico di cinque minuti fa perché diciamo che da trent'anni da quarant'anni che le donne hanno accesso all'università e quindi voglio dire e poi quale comunque quale cultura assorbono quella accademica che è stata distillata dal patriarca tutte le altre storie sono state cancellate io lo scrivo nel libro di Troia questo tutto è stato cancellato la verità è stata cancellata perché dovevano essere esaltati esclusivamente i maschi che hanno fatto le cose il maschio che ha vinto le guerre noi abbiamo in tutte le nostre piazze il Garibaldi sul cavallo il Marco Aurelio abbiamo tutti questi condottieri che cosa hanno fatto guerre distruzioni e catombi pur tuttavia sono gli eroi quindi chi uccide è eroe tu ti rendi conto della blasfemia di queste parole di questa frase però più ne uccidi e più hai medaglie più battaglie vinci quindi più genocidi fai più il potere ti riconosce valore tutto questo è talmente sballato dal punto di vista dell'umanità intera che non può altro che produrre folli questa è la follia quando le piccole povere tristi femministe hanno cercato di dire ma guardate pur si muove perché è la stessa cosa cioè hanno tirato su il dittino dicendo ma guardate che esistiamo anche noi anche noi abbiamo intelligenza anche noi possiamo fare delle cose fatte bene le hanno hanno cercato di uccidere il più possibile le hanno strumentalizzate perché non riuscivano più eravamo talmente tante comunque coscienti l'umanità ha comunque avuto un grande risveglio nel novecento nonostante le guerre mondiali nonostante i nazismi nonostante i fascismi comunque nel novecento c'è stato un grande cambiamento e quindi questo man mano ha portato il patriarca ad arroccarsi sempre di più e sempre peggio nei propri domini nel dominio della guerra nel dominio della paura siamo tra Eros e Thanatos tra Eros che vuole l'amore l'armonia la gioia la bellezza e Thanatos che vuole la morte la distruzione la malattia la pandemia sono tutte cose riferite a Eros che vuole dominare e di fatti toglie libertà il patriarca è quello che fa gli schiavi la schiavitù il concetto di schiavitù nasce col patriarcato in cui lo schiavo deve essere sempre nella gradino questa forma piramidale della società c'è sempre quello che sta sotto e che obbedisce a quello che sta sopra quindi questo sistema è un sistema baccato è un sistema orrendo che nessuno è felice chi è felice in una piramide in cui tutti devono obbedire a chi sta sopra uno solo chi bypassa la piramide e trova la sua età dell'oro in modo metafisico brava chi appunto proprio la vede nesce nesce perché è difficile anche uscire però nel momento in cui ne esci sei appostissimo vedi la trappola nel famoso libro la trappola invisibile quando vedi la trappola ne esci ma perché la vedi ma altrimenti se non la vedi tu sei costretta a stare lì e obbedire e a fare tutte le cose orrende compreso andare a prendere le armi andare in guerra quindi venire ucciso e questo è successo a tutte le generazioni che ci hanno preceduto andare in guerra e essere anche contento perché la tua mamma riceverà la medaglia al valore ai caduti abbiamo tutte le cose ai caduti cioè ma ci rendiamo conto che siamo immersi in una situazione di guerra e di morte continuamente dica un paese in cui non ci sia non so il monumento ai caduti piazza dei caduti o piazzale degli eroi o piazza Garibaldi te ne dico un'altra non c'è stato un giorno di storia senza una guerra senza che un paese al mondo non sia stato in guerra tuttora non c'è solo la guerra dell'Ucraina ma ce ne sono tantissime altre tantissime altre guerre non siamo capaci di pace e questa è una cosa spaventosa che se tu ci pensi bene è la tragedia delle tragedie e se c'è una cosa davvero da cambiare è questa e sai come si fa riequilibrando le energie è lì assolutamente allora fermati fermati qua che adesso noi ci riconnettiamo ok adesso io faccio e